GTM, Sangritana e Arpa, queste le tre società di trasporti che da oggi si trasformano in una. Gomme e rotaie, trasporto locale, trasporto extraurbano e extraregionale. Restano i servizi ma cambiano i vertici. È infatti Luciano D'Amico da oggi il presidente della TUA, il trasporto unificato abruzzese. Le relazioni già da alcuni mesi sono quelle di un'azienda unica. Gli uffici, il personale e ovviamente i consigli di amministrazione hanno già lavorato nell'obiettivo dell'azienda unica e comportandosi da azienda unica. Credo che la Regione Bruzzo abbia bisogno di un'azienda dei trasporti in grado di traghettare, di rivoluzionare in qualche modo la politica dei trasporti. Su questo stiamo lavorando già da messi insieme, oggi ancora di più. Per Michele Russo, storico presidente della gestione e trasporti metropolitani di Pescara, un nuovo assetto amministrativo. Un valore simbolico sicuramente ma anche un valore operativo che dovrebbe e sicuramente porterà maggiore efficienza, maggiore semplicità anche nei confronti dell'utenza e speriamo anche con risultati economici buoni per l'azionista unico che è la Regione Abruzzo. Tra le semplificazioni a cui ha più volte fatto riferimento il presidente della Regione, anche l'unificazione dei biglietti. Cambierà innanzitutto che i nostri cittadini abruzzesi dovranno iniziare a ragionare con un servizio unico. La società unica potrà così essere immediatamente operativa nelle prossime settimane anche con dei servizi che possono facilmente essere percepiti dall'utenza. La possibilità di un biglietto unico, la possibilità di un esercizio unico, la possibilità dell'intermodalità e quindi di poter scambiare un mezzo di trasporto ferroviario su gomma con uno stesso titolo di viaggio.